Noi la radio da promuovere hoppe lo che da energia renovabile. Per se noi promuovere, noi stiamo a mettere di applicare i sacchi. Noi cominciamo con un arco-inverter che ti accende e paga riba horario o si pira hoppe calore e arco ti accende automaticamente. Tambi usano tutto da LED che ti accende con molti sensori passi in una ora di gente non ti accende non so. Per fortuna usano la solar light. Il sacchia pone che non si gasta meno energia. Per ultimo, i nostri disini dipone il solar panel ribadac con energia renovabile. Wouter di Better Solar da conto a noi. Better Solar, io sono Wouter Steentjes. E siamo qui per la radio. In questa settimana abbiamo abbiamo 5 kilowatt di solar. E per la radio abbiamo fatto una scuola per la installazione. come una scuola per la batteria. In questa racTER è stata un'-inverter diuttura a potere, in questa è stata guida, che è stata una scuola per la batteria. Ilcorre, è stato un'-inverter거 per la batteria. È stato assistente di essere, in questa attuola per le bar, con la batteria. Siamo arrivati in questo tipo di criança. Il dei potere da di tutto, in questo tipo di persone, l'atso a la batteria. e altre energiegebruikers. Daardoor puoi trovare una stabilità in l'energia. Iniziamo con un 5 kWh-systeem. E poi, in un lungo tempo, possiamo vedere quali la migliore opzione e quanto più solano bisogna mettere in quanto riguarda l'anno per il fine di settimana. La forma di qui crea la energia limpia e ci contribuisce per il nostro pianeta. Se il nostro tour per un'attività di noi, ci sono un migliore paura per vivere. Grazie a tutti.